Who are you? Qua c'è una macchina Vieni Vieni Accosti Accosti ho la luce Aia la mondo in faccia Aia 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 Ehi Ho una spada Aia Aia Ma perchè non fai il mito sui ticocchi mentre mi schianti tipo in faccia L'uomo romato di ascia Vai vai C'ho l'ascia Aspetta aspetta Gabriele Letros avvicina Aspetta devo fare Devo fare Aspetta fermo Allora Arush sta il cover armato di ascia Il nuovo armato di ascia No fermo ora no Fermo no Fermo Aspetta Faccio un sacco Faccio un sacco No io ti butto la macchina in qui Ehi Ehi Hai chiamato qualcuno ha fatto Ehi 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 Non ti faccio parlare Vai 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 Girati 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 Aspetta 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 Vai 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 questa macchina è mia io spari fuori attività prendiamo tutte le armi prendiamo non aspetta aspetta un secondo su tik tok fai un'altra cosa ti butti raggio in faccia e ti riva i raggi fatti però devo spuntarsi in faccia aspetta però non adesso aspetta che prendo la canzone io metto qualche il palo si è boccato non lo so vabbè mettiti per strada sì ma se mi pensano se mi metto che sarà l'ora sarà io mi metto più lontano video arrivare non sono io che tu ci va e c'è una macchina era una macchina sì ma ero 3 2 1 vai 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 fatto finito ahia un cavo mi ha ammazzato questo è il karma 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 Grazie a tutti.